Rivi Sondoli si sta rivelando come una delle mete più gettonate per quanto riguarda il ritiro estivo delle squadre di calcio. Dopo la Salernitana è la volta del Napoli Femminile Calcio che si sta allenando qui in questo oridente cittadino dell'Alto Sangro. Qui con noi c'è il direttore generale della squadra Napoli Calcio Femminile che milita in serie a Marco Zingauer. Quali sono i vostri obiettivi per quest'anno? Ma innanzitutto siamo molto contenti di essere qua per quanto mi riguarda la seconda volta ed è un posto veramente straordinario. Noi ci riproponiamo in serie a con l'obiettivo di salvarci il prima possibile cercando di soffrire diciamo fino al periodo invernale inoltrato. Pensiamo di esserci preparati bene e di essere ben organizzati. Biagio Seno è l'allenatore giusto? Sì assolutamente sì, lui aveva avuto un'esperienza con noi l'anno scorso fino a 11 giornate dal termine come direttore sportivo e adesso abbiamo deciso di confermarlo come allenatore perché se lo merita. Siete alle spalle delle big, Juve, Milan, Inter e Roma? Anche più alle spalle, però cercheremo di dar fastidio a tutti. E per quanto riguarda la società come strutturate? Allora il Napoli è un modello di azionariato diffuso costituito da 20 soci circa ed è la strada diciamo più sostenibile nell'attesa di rendere il sistema calcio femminile più stabile dal punto di vista economico. Quindi diciamo che la società va avanti grazie ai sacrifici dei soci piuttosto che grazie a risorse di sistema che ancora scarseggiano. E a Castel di Sangro sta svolgendo il ritiro precampionato anche il Barletta con pagine pugliese che milita in Serie D e che punta deciso alla conquista della Lega Pro. In attesa a settembre dell'arrivo della nazionale di calcio svedese che affronterà il 26 settembre a Castel di Sangro la nazionale italiana femminile.